La composizione. L'olio per capelli viene prodotto dal grasso del cobra reale e del serpente velenoso più grande del mondo. Il grasso viene estrao dalla cavità addominale e viene venduto puro con l'aggiunta degli estrai vegetali. Il prodotto ha una ricchissima composizione grazie alla quale garantisce la cura ai capelli e al cuoio capelluto. Il componente più prezioso sono gli acidi grassi saturi che non vengono prodotti dal corpo. L'uomo li riceve solo con il cibo. La carenza di questi acidi può provocare diversi disturbi in quanto compromette le membrane cellulari. Inoltre il prodotto è ricco dei seguenti componenti, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina S, le vitamine del Guo V, per le sostanze antisettiche. Le feo sui capelli. I benefici dell'olio sono notevoli. Esso permette di rigenerare anche i capelli molto danneggiati. I risultati si vedono già dopo qualche settimana. I capelli si rigenerano, si rinforzano, diventano più lucidi ed elasticizzati, crescono più rapidamente e si prestano meglio per le pieghe. Il grasso del serpente viene utilizzato contro la dermatite seborroica, la forfora, la lopecia, la secchezza eccessiva e la fragilità. Utilizzando regolarmente il rimedio noterete i seguenti cambiamenti. Le ghiandole sebacee funzioneranno meglio eliminando l'oleosità o la secchezza eccessive del cuoio capelluto. L'olio pulisce bene i pori accelerando così il fornimento dell'ossigeno alle cellule. Sparirà l'infiammazione e il prurito, si cureranno le lesioni, la cute diventerà più elasticizzata. Spariranno i piccoli brufoli ascessi. Le punte dei capelli saranno più morbide ed elasticizzate, si fermerà lo sfibramento. Si fermerà l'alopecia, la chioma non soffrirà più del sole e del freddo. La ricrescita dei capelli sarà molto più rapida. Le controindicazioni. Nonostante le assicurazioni dei produttori che l'olio di serpente si assicura ipoallergenico, in alcuni casi può essere pericoloso utilizzarlo. soprattutto perché la composizione include anche il veleno e per questo è vietato utilizzarlo quando si ha la cute non integra. Inoltre il rimedio può provocare le reazioni indesiderate condizionate dall'intolleranza personale. Per fare la prova applicate una goccia dell'olio sul polso e aspettate 20 minuti. Se notate qualche reazione negativa non utilizzate il prodotto. È vietato utilizzare i prodotti contenenti il grasso di serpenti anche nei seguenti casi, gravidanza, allattamento, i produttori. L'utilizzo dell'olio di serpente è un fenomeno relativamente recente per questo in Italia ancora non è presente la sua produzione. Tra l'altro il cobra reale vive solo in Asia e sarebbe difficile portarlo in Italia. Tuttavia il rimedio si può acquistare su internet dai negozi specializzati sui prodotti esotici. Ecco alcuni produttori. Amani è un brand pakistano che offre l'olio di serpente accompagnato dagli estrai d'oliva, pa di sandalo, to di sesamo e di senape. Zafair Snake Oil è un'azienda proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, offre l'olio di serpente di qualità. Tala Snake Oil è una marca turca, prodotti dalla quale di solito vengono utilizzati per curare l'alopecia. L'utilizzo. Esistono tanti modi di utilizzare l'olio di serpente. Può essere utilizzato da solo o come componente dei rimedi più complessi. L'olio di serpente puro viene utilizzato per i seguenti tramenti. Il massaggio. Si utilizza qualche goccia dell'olio scaldandolo prima tra le mani e successivamente applicandolo sul cuoio capelluto massaggiando. Si lascia per 10 minuti dopodiché si sciacqua utilizzando lo shampoo. Questo trattamento è ottimo per la cura dell'alopecia e per la stimolazione della crescita dei capelli. La piega. Molti hairstylista hanno notato che l'olio è ad hoc per le pieghe. Si applica sui capelli leggermente bagnati non toccando le radici e dopo fanno la piega. In questo modo i capelli vengono proteggi dal calore e si facilita la piega. L'aggiunta ai prodotti. Per aumentare l'efficacia dello shampoo, del conditioner o della maschera si può aggiungere qualche goccia dell'olio. I capelli diventeranno più morbidi, setosi e lucidi. Con più utilizzi si rigenererà anche la loro struttura. Le maschere. Le maschere casalinga base di grasso di serpente permetteranno di ottenere degli ottimi risultati. L'importante è farle almeno due a tre volte alla settimana se non è indicato altro nella ricetta. I corsi includono diversi numeri dei trattamenti a seconda dello stato iniziale dei capelli. Si può accompagnare l'olio dai diversi componenti. Così si possono raggiungere diversi obiettivi. Andiamo a scoprire le ricette più utilizzate che hanno tenuto più recensioni positive. La crescita e il rinforzamento. Prendete due cucchiai di foglie di bardano se macinate e aggiungete due cucchiai di acqua bollente. Fino ottenere una consistenza cremosa. Aggiungete un chiaio d'olio di serpente e un chiaino di cannella macinata. Mescolate bene il tuo e applicate sui capelli e sul cuoio capelluto. Coprite la testa con la cuffia e qualcosa di caldo e lasciate per 20 minuti quindi sciacquate. Ripetete il trattamento un paio di volte alla settimana. Questa maschera rinforza bene le radici, stimola il metabolismo e la circolazione sanguigna nei follicoli garantendo così la veloce ricrescita dei capelli. È opportuno utilizzarla dopo le colorazioni permanenti e nei periodi di avvitaminosi quando i capelli necessitano particolarmente di una buona cura. Stop alla caduta. Preparate il rimedio prendendo un cucchiaino d'olio di serpente, tre cucchiai d'olio di bardana e uno tuorlo. Uniteti gli ingredienti e mescolate bene. Applicate il composto sul cuoio capelluto e sui capelli coprite con una cuffia e qualcosa di caldo, lasciate per talanotte. Fate questo trattamento un giorno su due fino a 6-10 trattamenti. Questa maschera è ad ala la cura dell'alopecia in ogni fase. Sarebbe meglio cominciare a utilizzarla appena notate i primi sintomi della caduta dei capelli. Il rimedio rinforza le radici, riempendole con le sostanze nutrienti, e stimola il metabolismo nei follicoli. Contro le due punti capelli sia che danneggiati sono soggetti alla formazione di due punte che danno molto fastidio alle donne. I capelli iniziano ad aggrovigliarsi, difficilmente si petinano, perdono la lucentezza e l'elasticità naturali. Tavia esiste un rimedio molto semplice ma molto efficace per la rigenerazione profonda. Prendete un cucchiaio d'olio di serpente e fatelo scaldare a bagnomaria fino a 30 gradi S.A. Aggiungete tre gocce d'olio essenziale di bergamot. Applicate il composto sulle punte pulite e leggermente bagnate, lasciate asciugare per due ore e quindi sciacquate senza utilizzare lo shampoo. Il trattamento va effettuato una volta alla settimana per prevenire la formazione di due punte. Contro la secchezza prendete set cucchiai di kefir e fatelo scaldare aggiungendo uno fiala di vitamina B12 e un chiaino d'olio di serpente. Applicate il composto sui capelli puliti sulla zona delle radici e sulle punte. Coprite con una cuffia e qualcosa di caldo, lasciate per due ore e quindi sciacquate come da abitudine. Per una rigenerazione più profonda ripetete il trattamento almeno 5 volte al mese. È particolarmente necessario farlo nei periodi freddi quando i capelli sono più deboli e necessitano di un'idratazione e di un nutrimento maggiori. Contro l'oleosità per preparare il rimedio prendete due cucchiai di fiori di camomilla secchi. Aggiungete l'infuso di tè verde fino a tenere una consistenza cremosa, poi aggiungete un chiaio d'olio di serpente e un chiaio di argilla blu. Applicate il composto inuto sulle radici di capelli non lavati e asciutto, coprite con una cuffia e lasciate per circa mezz'ora. Dopodiché lavate i capelli con lo shampoo e asciugate in modo naturale. Per un risultato migliore ripetete il trattamento almeno 3 volte al mese. Il sebo eccessivo è un altro problema che provoca l'imbarazzo di molte donne. Questa maschera aiuterà a regolare la funzione delle ghiandole sebacee, migliorare al circolazione sanguigna, migliorare la crescita e rendere i capelli più voluminosi. Contro la forfora le scaglie bianche sono un fuo di attività di fungo sul cuoio capelluto. Il grasso di serpente permette di combattere contro il fungo in quanto possiede delle ottime proprietà antisettiche. In più solleva l'infiammazione e stimola la crescita dei capelli. Prendete un chiaio di polvere di psilio, lo trovate in erboristerie, aggiungete un chiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaino d'olio di serpente. Applicate il composto ottenuto sul cuoio capelluto e sulle radici massaggiando, lasciate per 30 minuti, quindi sciacquate. Il corso include 7 tramenti effettuati un giorno sì, un giorno no. Le conclusioni. L'olio di serpente è un rimedio efficace e assolutamente naturale per curare i vari disturbi dei capelli e del cuoio capelluto. Esso penetra profondamente nella cute, migliorando le sue proprietà protettive e rigenerative a livello cellulare, stimolandole. Metabolismo, risvegliando i follicoli e accelerando la ricrescita dei capelli. Il rimedio può essere utilizzato in diversi modi. Trovatene uno più ad ala i vostri capelli. La cura regolare con questo rimedio darà sicuramente degli ottimi risultati. Dimenticherete che cosa sono i capelli deboli e le malattie cutanee. Tuttavia utilizzate solo i prodotti di qualità per evitare le reazioni indesiderate.